Sì, dopo una partita così è normale essere arrabbiati, una sconfitta pesante che deve servirci da lezione. Abbiamo giocato contro una grande squadra e al minimo errore ci ha punito. Fa male, quello è indubbio, però dobbiamo guardare avanti. Sabato abbiamo una partita importante e ormai questa non la possiamo rigiocare. C'è da pensare a recuperare il migliore dei modi perché sabato incontriamo una grande squadra come l'Atalanta e sarà una grande partita. Sicuramente quella di stasera è stata una sconfitta pesante che la Juventus non merita per quello che è la Juventus. Poi sul campo purtroppo il Chelsea è stato meglio di noi. Le riflessioni si devono fare sempre, sono state fatte anche dopo la vittoria di sabato all'Olimpico perché se non rifletti su ogni partita non migliori mai. Sicuramente anche questa sera, soprattutto stasera dopo una sconfitta ci sarà da riflettere e da capire dove migliorare. Loro andavano più di noi, erano sempre primi sulle seconde palle. Sicuramente è mancato un pizzico di cattiveria in più per non fare questa brutta figura. Però purtroppo non possiamo rigiocarla. Abbiamo sbagliato la partita e dobbiamo mettere da parte questa gara e pensare alla partita di sabato.